Il prefetto di Sondrio ha consegnato sette onorificenze ad altrettanti cittadini che si sono distinti per il lavoro a servizio del prossimo. Prima della cerimonia in piazza Campello l'incontro con le forze dell'ordine. Investimenti per 5 milioni di euro su tutto il territorio della provincia di Sondrio, da regione Lombardia in arrivo 1 milione e 300 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria. Dopo l'emergenza sanitaria torna la festa di Capodanno in piazza Garibaldi con musica, fuochi d'artificio e brindisi. Proseguono intanto le iniziative prenatalizia a Sondrio. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha consegnato a sette cittadini che si sono distinti per il servizio pubblico svolto nel loro lavoro il titolo di Cavaliere della Repubblica. Sette cittadini impegnati su fronti lavorativi differenti ma accomunati dallo spirito di servizio verso lo Stato e la popolazione, sono stati insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica da parte del prefetto e dei sindaci dei comuni di residenza. Si tratta di cittadini che hanno dato il meglio di sé, che costituiscono un esempio per tutta la cittadinanza, che hanno temperato a pieno ai doveri di cittadinanza e istituzionali che competono tutti noi di migliorare tutti i giorni la nostra bella Repubblica. Il titolo di Cavaliere è andato ai medici Elena Bernardini e Laura Pelanconi, al direttore della Camera di Commercio Marco Bonat, al comandante del reparto operativo dei Carabinieri, tenente colonnello Roberto De Paoli, al maestro Lorenzo Della Fonte, al professore Enrico Pelucchi e al ragionier Costantino Tornadù. Ho capito di interpretare il mio lavoro nel senso di servizio per lo Stato, per la nazione, quindi per la pubblica amministrazione e sono molto contento che qualcuno abbia deciso di assegnarmi questo riconoscimento. Tutta la carriera intera in Camera di Commercio? Sì, ho fatto i primi cinque anni della mia carriera in Camera di Commercio a Sondrio, poi la Camera di Commercio di Como per cinque anni e poi sono tornato a Sondrio con il caro presidente Tasso Sozzani come segretario generale, peraltro sono dirigente dal 1997. Sono molto contento perché in questi anni ho potuto conoscere a Sondrio, poi Como, poi ancora a Sondrio, degli amministratori con cui mi sono sempre trovato molto bene, anche dei collaboratori che credo mi abbiano dato un grande sostegno. E il prossimo traguardo? Il prossimo lavoro che devo fare, spero ancora a lungo in Camera di Commercio, un importante traguardo l'abbiamo colto alcuni anni fa riuscendo a mantenere la Camera di Commercio sulla nostra provincia, è stato molto duro, il lavoro non manca, cerchiamo di interpretare la nostra funzione a sostegno del sistema imprenditoriale, certo nel 2026 ci saranno le Olimpiadi ma c'è ancora molto lavoro da fare anche su una serie di altre tematiche, già da domani mattina. Siamo state le prime con la dottoressa Pancrazzi a iniziare le vaccinazioni contro il Covid per i bambini, ho due specialità, una in pediatria, una in allergologia e immunologia, ho fatto il consigliere comunale, sono consigliere nell'ordine dei medici, ho anche insegnato un po' all'università in Valtellina, agli infermieri e ho cercato di contribuire al meglio per la comunità. E prima della cerimonia i vertici di prefettura, provincia e città di Sondrio hanno incontrato in Piazza Campello le forze dell'ordine e le istituzioni impegnate nei soccorsi e nell'assistenza alla popolazione per gli auguri di Natale e il ringraziamento per il lavoro svolto. Si è svolto nel pomeriggio di lunedì in Piazza Campello di Sondrio il tradizionale incontro promosso dalla prefettura, dalla provincia e dalla città di Sondrio in occasione delle festività natalizie. I rappresentanti delle istituzioni hanno salutato e ringraziato tutti i presenti, richiamando nei loro discorsi gli sforzi messi in campo da tutti nel pesante e impegnativo periodo della pandemia che ha messo in luce impegno e abnegazione degli operatori. L'incontro, una tradizione dei giorni che precedono il Natale, è stato un momento di scambio degli auguri tra i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e del soccorso, presenti e schierati con i loro mezzi, a significare una rete di operatori impegnati in favore della sicurezza e del sostegno a tutti gli abitanti. A prendere parte al momento anche numerosi sindaci di tutto il territorio, presenti poi nella sala delle adunanze, dove si è svolta la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana, riconosciute a sette cittadini che si sono distinti nel lavoro e nel servizio alla popolazione. Sergio Schena è stato riconfermato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026. Lo ha proposto il Presidente della Regione Attilio Fontana. Sono certo, ha commentato quest'ultimo, che il dottor Schena continuerà a garantire quell'importante contributo che ci ha già consentito di raggiungere risultati importanti. I giochi si avvicinano e la sua competenza e la sua grandissima conoscenza del territorio saranno un'arma in più per la perfetta riuscita della manifestazione. A lui e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione i migliori auguri per il lavoro che dovranno svolgere in questi anni. Si chiude un anno positivo per le piccole e medie imprese del territorio nonostante i rincari dell'energia. È il bilancio tracciato da Api, Lecco e Sondrio. Buone le prospettive anche per il 2023. Aumentano i servizi offerti dall'Associazione. Fine anno tempo di bilanci anche per Api, Lecco e Sondrio. Che 2022 è stato per le piccole e medie imprese del nostro territorio e che 2023 sarà? 2022 è stato un anno, diciamo tutto sommato, positivo. È iniziato in forte crescita, una forte domanda, quindi con produzioni e fatturati in aumento. A metà anno, a seguito anche dell'inflazione galoppante, c'è stato un attimo di rallentamento dovuto ai costi energetici e ai costi di materie prime che sono cresciuti esponenzialmente. Negli ultimi periodi questo problema è rientrato e sta rientrando. I costi di materie prime stanno ritornando a livelli più accettabili, non quelli di partenza, però più accettabili. Quindi tutto sommato il 2022 è un anno positivo. Il 2023, secondo me, ci sarà un anno di stabilità. Non ci saranno più che sul plus di domanda, che ci sono stati nel 2022, però sono convinto in un anno positivo anche questo, anche il 2023. Che anno è stato per l'associazione? È stato un anno importante perché abbiamo riorganizzato veramente tutto l'asset dei servizi, partendo, come vi hanno detto, da un centro studi che ci serve per dialogare più intensamente e più costantemente con le nostre aziende, ricavarne dei dati fondamentali per poi, per formare al meglio, affiancandole nell'erogazione e nei supporti che diamo. In questo momento siamo in grado di gestire tutta la parte legata alle agevolazioni e alle progettualità anche attraverso l'implementazione della nostra impresa innovativa Apitec, oltre ad aver individuato e quindi investito ulteriormente anche sullo sviluppo dei mercati esteri. L'attività di welfare è stata molto apprezzata dalle vostre imprese. Sì, in attesa di una vera riforma sul cuneo fiscale, in questo momento, soprattutto i provvedimenti recenti anche dal governo, che hanno innalzato la soglia a 3.000 euro dei fringe benefit, ci hanno consentito di fornire all'azienda uno strumento molto utile per incentivare non solo i dipendenti, ma dare anche a loro un valore spendibile, già a partire dal rimborso delle spese energetiche, piuttosto che declinarlo in aspetti legati alla formazione, al supporto, al welfare. Interventi di manutenzione straordinaria su alcuni ponti della provincia di Sondrio. Tra Valtellina e Val Chiavenna sono 5 milioni gli investimenti previsti, ma 1.300.000 euro sono in arrivo da Regione Lombardia. 1.300.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni ponti della provincia di Sondrio. Sono fondi previsti da Regione Lombardia per Valtellina e Val Chiavenna a fronte di investimenti complessivi di quasi 5 milioni. 900.000 euro sono previsti per il rinforzo strutturale del ponte Adda nei comuni di Berbenno e Fusine, sulla provinciale 16 Eurobica, mentre 150.000 euro per la ristrutturazione di un ponte a Liro-San Mamete a mese, ma anche 125.000 euro per il rifacimento dei giunti sul ponte Val Chiosa a Tirano. Nel comune di Samolaco ci sono contributi per due interventi, la sostituzione delle barriere sul ponte San Pietro e il rifacimento dei giunti del ponte Nave. È così aggiornata la programmazione 2021-2023 degli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti di competenza dalle province e della città metropolitana di Milano, a cui Regione Lombardia ha destinato oltre 23 milioni di euro. Diamo continuità agli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti, spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Claudia Maria Terzi, per i quali già nel 2020 abbiamo preventivato un investimento complessivo di 54 milioni di euro. Con la delibera approvata dalla Giunta è stato inoltre fissato il termine per la programmazione delle opere per gli anni 2024-2026, per la quale la Giunta ha già destinato 30 milioni di euro. Sondrio si prepara a festeggiare il Capodanno 2023. Torna infatti la festa in piazza Garibaldi con DJ, fuochi d'artificio e brindisi organizzata dal comune. In questi giorni in tanti proseguono gli eventi natalizi in centro città. Torna il Capodanno in piazza Garibaldi con DJ, fuochi d'artificio e brindisi. Dopo gli anni dell'emergenza sanitaria, anche Sondrio ritorna a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Così la piazza centrale sarà ancora più animata e luminosa grazie anche alla presenza di pista di pattinaggio, scivolo ed enorme scritta dedicata al 2023, divenuta lo sfondo preferito per selfie e fotografie. Un lungo spettacolo intratterrà il pubblico durante la serata sul palco DJ, ballerini e vocalist fra danza e animazione proporranno i brani che hanno caratterizzato l'anno che si sta per chiudere. Protagonisti grandi successi, le canzoni più ascoltate e scaricate per ripercorrere in musica il 2022 e vivere intensamente le ultime ore dell'anno prima del fatidico conto alla rovescia. Nel programma per il Natale tenevamo particolarmente a riproporre la festa di fine anno che nel passato ha riunito tanti sondriesi in piazza Garibaldi, sottolinea l'assessore agli eventi Francesca Canovi. È la festa che più ci è mancata negli anni della pandemia e la sua organizzazione segna il completo ritorno alla normalità. Nell'attesa della notte di San Silvestro proseguono le iniziative per animare le giornate che precedono il Natale. Nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre in piazza Campello si terrà lo spettacolo La Magia dei Cigni Luminosi prima della cerimonia dello scambio di auguri alle 17 e la calata dei Babbi Natale dalla Torre Ligariana a cura del Cai di Sondrio. I tradizionali auguri davanti a Palazzo Pretorio saranno anche il momento conclusivo del concorso Il mio sogno per Natale con la lettura della letterina risultata vincitrice La notte di Natale gli amici sciatori di Talamona illumineranno il versante del paese per la 41esima edizione della fiaccolata quest'anno con alcune novità Della storia di questa tradizione parleremo stasera a Unica Torre Sondrio in onda alle 20.30 Vediamo un'anticipazione Per il 41esimo anno le luci delle fiaccole degli amici sciatori illumineranno la notte di Natale a Talamona una tradizione è nata per ricordare un amico cresciuta fino a diventare un appuntamento che richiama centinaia di visitatori non solo talamonesi L'idea è nata nel 1980 è partita proprio da un gruppo di amici che si sono trovati una sera al bar e fra questi amici c'era Edoardo Bianchini che due o tre anni prima è capitato che è morto un fratello tragicamente in Francia lavorando nei boschi e si voleva fare qualcosa per ricordare questo fratello e anche altri ragazzi di Talamona morti purtroppo sul lavoro e si è deciso di fare questa fiaccolata e da lì è nata questa cosa e si è cominciati quella sera lì di Natale il primo anno erano 19 amici sono partiti quella mattina sono saliti con un trattore con mezzi di fortuna hanno preparato questa scritta poi sono scesi sono trovati al solito bar hanno mecenato e da lì poi hanno deciso di continuare a fare questa fiaccolata e così hanno fatto per anni e infatti l'anno scorso che era il quarantesimo ricorrei al quarantesimo della fiaccolata li abbiamo invitati ancora tutti e sono scesi ancora tutti 19 davanti alla fiaccolata e davanti a tutti noi ma tuttora c'è un solo concorrente che ha fatto tutte 40 quest'anno 41esima edizione è Alberto Spini quest'anno abbiamo deciso di far scendere davanti a noi una Jolette che porterà un disabile che fa parte del gruppo della gioia di Talamona così da rendere un po' di felicità anche a questi ragazzi e saremo in 5 o 6 di noi che porta questa Jolette che praticamente è una bicicletta va guidata in 4 o 5 persone e con un disabile sopra che anche lui potrà partecipare alla fiaccolata poi quando scenderemo arriveremo al presepe di Cadigioan che è il presepe che è fatto nel greto del fiume Roncaiola lo attraverseremo entreremo da una parte usciremo dall'altra e proseguiamo il nostro percorso fino all'arrivo della fiaccolata l'arrivo solito che è in cima al paese di Talamona praticamente 24 a Talamona partiremo verso le 8 alla sera più o meno 8 e mezza 20 alle 9 siamo in paese dove ci sarà anche l'arrivo di Babbo Natale con la classica slitta e diamo un piccolo regalino a tutti i bambini che ci sono di Talamona per questa sera è tutto l'appuntamento con la nostra informazione a domani a tutti voi una buona serata a tutti i bambini Grazie.